Pizzone 2, Enel incontrerà l'abbate di Monte Cassino per fare chiarezza sull'impatto ambientale del progetto. Lo rende noto lo stesso dom Antonio Fallica, a margine della commemorazione religiosa in onore dei martiri volturnensi, tenutasi nel pomeriggio di ieri presto l'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Mentre si allarga il fronte del no alla realizzazione della megaopera, che rischia di sconvolgere gli equilibri del delicato ecosistema, per non parlare delle ricadute economiche negative a danno delle attività economiche dell'area, il presidente Roberti, nell'incontro di ieri con quanti manifestavano davanti a Palazzo Daimmo, ha precisato un aspetto fin qui sottovalutato. Laddove l'opera dovesse essere dichiarata di interesse nazionale, la regione nulla potrebbe per opporsi. Di qui l'appello del governatore ad unire le forze per far arrivare la voce del no fino a Roma. Un contributo in questa direzione era già arrivato nei giorni scorsi dall'abbate che aveva scritto al presidente della Repubblica Mattarella. I tesori di un territorio, nella missiva, sono ricchezza di tutti, sono immediata testimonianza della infinita munificenza di Dio. Tutti i suoi figli sono chiamati a godere del privilegio di abitare la terra, rispettandola come casa comune. Adesso si tratta di capire quali saranno i passi ulteriori. Io non entro in questioni tecniche, politiche che non mi competono. Pensavo che il mio fosse un necessario richiamo di tipo etico, morale, tenuto conto soprattutto anche degli appelli che Papa Francesco è tornato a rivolgere anche con la recentissima Laudate Deum che aggiorna e integra la Laudato Si. Anche perché questo sito potrebbe diventare parte integrante del patrimonio UNESCO? Sì, è uno dei motivi che mi ha spinto a questa posizione e anche questa considerazione. Insieme ad altri siti benedettini, tra cui anche Monte Cassino, l'Italia avanza attraverso i suoi organismi la candidatura di questi siti a patrimonio universale dell'UNESCO. Ovviamente questo è sia per il significato storico e culturale che hanno questi luoghi, ma anche per la bellezza dell'ambiente in cui sono inseriti. E quindi questo ci richiama ulteriormente ad una responsabilità.